Il giorno 16 marzo è stato da bollino rosso per commercialisti consulenti ed intermediari. Infatti sono stati ben 77 gli adempimenti a cui adempiere, tra le altre cose 60 riguardavano pagamenti di cassa nei confronti del fisco e ancora di più c'erano ulteriori 15 comunicazioni da fare. Ovviamente tutto questo comporta un dispendio di tempo, di energia e c'è bisogno effettivamente di una semplificazione fiscale, però di quelle fatte e non parlate.